Il primo di ieri è stata una cosa in più rispetto agli obiettivi previstivi. Ci sono stati all'inizio e sicuramente adesso comunque abbiamo ancora la Coppa da giocare e quello coronerebbe una stagione, vincere. Le partite e poi dopo si vede, però qui inizia subito il campionato, quindi c'è da pensarci poco. Quindi te lo saprò dire dopo la fine, dai.